Villa Fondi è sempre un posto speciale, un posto speciale perché è un posto di mostre, è un posto per il nostro circolo in cui siamo particolarmente legati, infatti abbiamo iniziato per l'ennesima volta, ormai non si contano quanti anni che siamo qui con il Cinefond, non erano i professori rompe e anche con i salotti letterari e stasera abbiamo un ospite particolare perché è un ragazzo giovanissimo, ma già così pieno di talento e così bravo, di meno questo è il tuo primo libro, Alberto Grosso, l'hai scritto alla storia di 19 anni, anche se è l'edito soltanto adesso. Sì, durante il secondo anno dell'università, poi sotto l'aspetto di mio genitore o di qualche amico l'ho mandato a questa casa editrice, via internet, dopo un mese mi è arrivata una risposta positiva e quindi ho colto la palla al manzo. Peraltro c'è scritto che non è cambiato così tanto, non l'hai modificato molto rispetto alla scrittura. Perché io ho appunto una cosa che mi ricordasse il mio stile da 19 anni. E tu quanto sei cambiato da 19-25 anni? Penso abbastanza, sia per le esperienze che ho fatto all'università, col teatro, con la musica, oppure comunque viaggiando e conoscendo altra gente. Infatti già in questa tua risposta hai sottolineato molti aspetti della tua personalità, perché tu sei uno studente di psicologia, sei uno scrittore che abbiamo visto anche avere una buona stoffa e poi sei un musicista e vantore. Sì. Cosa significa mettere tante cose dentro la vita? Eh, io sono sempre stato attratto dall'arte generale, quindi sia dalla musica quando avevo 5 anni, poi piano piano se ho appassionato al teatro, sia quando stavo alle scuole medico e all'università, e mi piacciono tutti gli aspetti dell'arte, dalla pittura, al disegno, alla musica, all'interpretazione in teatro. Mi piace molto il cinema, quindi cerco di fare più cose possibili perché vorrei diversificare il più possibile. Professore, vuol dire il sentiero del tempo? Un commento per dire che siamo arrivati a tutti. È un libro che ho letto veramente con grande piacere, perché si legge in facilità, e poi riesce veramente a fondere due piani di lettura. Un piano più realistico, è la storia principale che parte da un omicidio, è sempre quasi un giallo, e poi questo piano fantastico che si intreccia con i suoi interessi buddhisti, quindi mi ha colpito un po' questo intreccio particolare, anche questa forma letteraria, veramente piacevole, leggibile. All'epoca tu non eri ancora studente di psicologia? No, ero al secondo anno di psicologia. Infatti si vede che c'è anche un percorso psicologico, ma in questo caso è una reazione. c'è l'interiore che parte soprattutto dall'affrontare il dolore, non come qualcosa che può piegarci, che in un momento inizio può piegare, può spossare, ma affrontare il dolore di petto, cercare di trovare anche in questa cosa, in questo avvenimento tragico, una nuova forza, un nuovo se stesso per migliorarsi e per crescere. Una piccola curiosità, tu sei un uomo, però hai scritto un romanzo, un film femminile, che c'è la protagonista, parla lei stessa mettendo in luce i suoi sentimenti. Questo è un lavoro che ferma un po' da psicologo, questa empatia, questo trasferimento, che sono diversi dalle tu. Questo sicuramente, riesco di metesimarmi il più possibile nell'altro, comunque di fare le esperienze appunto diversificate, per diversificare appunto il mio animo, tra virgolette, per comprendere il più possibile gli aspetti diversi nella vita. In questo caso l'ho scritto anche perché forse non volevo affrontare il dipendente di una persona e non dare un'immagine di me che affrontava il percorso, ma di qualcun altro, anche il medicino, sotto forma di uno spirito femminile che potesse percorrere questo periodo. Per me sentire, forse è vero di mantenere il dovuto distacco, per non essere si è coinvolto, forse è troppo. L'ultima curiosità che mi viene è, somigli un po' al personaggio del fratello, tu no? C'è un po' di bene, ragazzo? Sì, assolutamente. Penso come primo esperimento, quindi evidentemente versò un po' della mia vita, delle mie esperienze nel libro. Mi ha colpito la sua semplicità, ma anche la capacità di essere veramente un autore maturo, un grande compositore, perché lui è anche un compositore, e quindi mi auguro un grande successo, sia professionale che artistico. Grazie tanto, speriamo di venire. Grazie mille, veramente molto. Come bene. Grazie. Grazie.